50 milioni di euro di tagli, l'8% ad ogni capitolo di spesa in modo lineare. Non sono finanziate adeguatamente nessuno dei settori e quindi dei grandi temi che riguardano la vita degli abruzzesi. Tagli alle imprese, tagli alle attività produttive, tagli al sociale, tagli per quanto riguarda i trasporti con la stessa ammissione, razionalizzazione. Dicono e dice il documento economico e finanziario approvato. Non solo, questo bilancio è anche illegittimo. Noi abbiamo già denunciato nei scorsi giorni che presentava dei vizi evidenti e il parere dei revisori ce lo dice in modo adeguato parlando che il documento presentato non appare rispettoso della normativa vigente per quanto riguarda gli equilibri degli stanziamenti. E' già lunga la serie dei provvedimenti e delle norme impugnate. Se non lo correggiamo rischiamo di farci impugnare anche il bilancio di previsione. Qui lavorerà l'opposizione in queste ore per correggere vizi di legittimità ma anche per stanziare delle risorse che l'Aggiunta non ha voluto stanziare a favore della comunità degli abruzzesi. Famiglie, imprese, sociale e trasporti. Grazie. Grazie.